Capitolo 5 Lo spazio tra il cielo e la terra è come un mantice, vuoto e inesauribile. Più lo si usa, più produce. Tenetevi stretti al centro. L'uomo è stato creato per giacervi nella quiete e trovare la verità che in esso dimora. Commento al capitolo 5 Vivere con imparzialità Il Tao non discrimina, è imparziale come il cielo e la terra. Il Tao è la sorgente di tutto, è il grande e invisibile, che provvede a ogni creatura. Non mostra preferenze nel donare energia, privando alcuni per favorire altri. Piuttosto, gli elementi di base della vita, come l'aria, la luce del sole, l'atmosfera e la pioggia, sono messe a disposizione di tutti sul nostro pianeta. Scegliendo di sintonizzare la nostra coscienza interiore ed esteriore, con questo aspetto potente del Tao, possiamo comprendere il nostro Io autentico. La nostra vera essenza è quell'aspetto di noi stessi saggio e non sentimentale che vive in armonia con il Tao. Questo aspetto non considera alcune forme di vita più degne di altre e rifiuta di fare preferenze. Oppure, come dice Lao Tzu, tratta tutta la sua gente come cani di paglia. Lao Tzu usa questo termine per descrivere come il Tao, così come gli individui illuminati, tratta le diecimila creature che appartengono al mondo della realtà manifesta. Nella sua traduzione del Tao Te Ching, Stephen Mitchell spiega che i cani di paglia erano oggetti rituali, venerati durante la cerimonia, ma in seguito abbandonati e calpestati. In altre parole, il taoismo onora e rispetta l'esistenza con imparzialità, come un flusso e riflusso da venerare e poi liberare. Con imparziale consapevolezza, il saggio vede ingenuamente il sacro dentro tutti i cani di paglia in questa cerimonia che chiamiamo vita. Il quinto capitolo ci incoraggia a essere consapevoli di questa imparzialità della sorgente, come di un bonus, per godere della paradossale natura del Tao. Più stretto è il nostro rapporto con l'energia del Tao e più viviamo nella sua ottica di universale creatività. Più essa si rende disponibile alle nostre necessità. È impossibile usarla del tutto. Se ne consumiamo di più, semplicemente ne riceviamo di più. Ma se cerchiamo di accumulare, finiremo per trovarci nelle ristrettezze, senza ricevere neppure un bricciolo di comprensione altrui. Il Tao e i suoi poteri spariranno paradossalmente quando tenteremo di escludere qualcuno dalla sua natura senza riserve. Le varie forme di vita sono tanto illusorie quanto il Tao è concreto. Quindi nessuno è speciale o migliore di altri. Questa idea si trova anche nei Vangeli. Dio fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Matteo 5, 45 Siate in armonia con l'essenza imparziale del Tao in tutti i pensieri e in tutte le azioni. Quando pensate di escludere gli altri, avete deciso di vedere voi stessi come persone speciali, quindi meritevoli di preferenza da parte dell'assorgente dell'essere. Nel momento in cui vi siete promossi a questa categoria, vi considerate più importanti di altri che avete deciso valgano meno di voi. Queste convinzioni vi faranno perdere l'illimitato potere del Tao. Alcune organizzazioni, compresi dei gruppi religiosi che designano alcuni membri come preferiti, non sono in linea con il Tao. Non importa quanto cerchino di convincere se stesse e gli altri della loro connessione spirituale. L'atto di esclusione e di parzialità rende inutile ogni sforzo, allontanandoli dal loro io autentico. In altre parole, se un pensiero o un comportamento ci divide, non viene da Dio. Se ci unisce, appartiene a Dio. Rimanete centrati nel Tao che dimora in voi, suggerisce Lao Tzu, e non avrete mai un pensiero che non sia in armonia con lo Spirito. Offrite a tutti i vostri tesori Questo è ciò che il Tao compie in ogni momento, offrire a tutti l'intera ricchezza della creazione. Consideratelo come un semplice processo in tre passi. 1. Eliminate dai vostri pensieri quanti più giudizi sugli altri potete. Il modo più semplice, più naturale per farlo, è vedere voi stessi in tutti gli altri. Ricordate che voi condividete una cosa con coloro che giudicate, il Tao. Quindi, piuttosto che guardare alle apparenze, che in verità sono solo o soltanto cani di paglia, osservate il manifestarsi del Tao in coloro che incontrate, così la vostra tendenza a criticare ed etichettare si dissolverà. 2. Togliete la parola speciale dal vostro vocabolario quando vi riferite a voi stessi o agli altri. Se esiste qualcuno speciale, allora lo siamo tutti. Se tutti siamo eccezionali, non abbiamo bisogno di un termine che definisca questa condizione, poiché esso implica chiaramente che alcuni sono favoriti rispetto ad altri. 3. Infine, proseguite con il terzo passo di questo processo con generosità, vivendo il Tao con imparzialità, connettendovi con lo spazio interiore del Tao. In questo spazio, sarete in grado di essere obiettivi riguardo ai vostri beni materiali, riconoscendo che non sono esclusivamente vostri, ma appartengono alla totalità. Nel dare agli altri e condividere incondizionatamente, proverete l'emozione dell'esperienza di vivere il Tao ed essere trattati in maniera imparziale. Il Tao è la vostra verità, dimora dentro di voi. In silenzio, godetevi la pace e la gioia, connettendovi all'inesauribile Tao. Ora, mettete in pratica il Tao. Oggi, decidete, quanto vi è possibile, di accostarvi alle situazioni e relazionarvi con altre coinvolgendole con un atteggiamento mentale di assoluta lealtà, a cui permetterete con fiducia di guardare le vostre reazioni. Agite in questo modo più che potete, per un'intera giornata, con le singole persone, i gruppi, gli amici, i familiari o gli estranei. Create una frase da ripetere mentalmente per rammentarvi di continuo che state affrontando quella situazione con un atteggiamento imparziale. Per esempio, ora guidami, Tao. Ora guidami, Spirito Santo. Oppure, ora aiutaci, Spirito Santo. con questa breve frase, con questa breve frase, sempre in mente, impedirete all'abitudine di giudicare, di emergere in superficie, ma soprattutto, apprezzerete il senso di tranquillità e apertura a tutto ciò che potrebbe accadere nei momenti in cui vivrete con imparzialità. L'episodio di oggi finisce qui. Grazie per averci ascoltato e al prossimo appuntamento. Grazie per averci ascoltato.